Drammatico incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi in una cava di marmo a Carrara in località colonnata. Un costone franato ha travolto due operai mentre un terzo è rimasto sospeso nel vuoto ed è stato successivamente salvato dall'intervento dell'elicottero Pegaso e poi trasferito al pronto soccorso. I due operai che probabilmente stavano effettuando il taglio di una parete avrebbero invece fatto un volo di circa 30 metri cadendo insieme a detriti da centinaia di tonnellate e ad una macchina tagliatrice. Al momento risultano dispersi tra le rocce anche se a detta del sindaco di Carrara Zubani sarebbe un miracolo trovarli vivi. Sotto sciocchi i colleghi di lavoro per alcuni di loro si sono rese necessarie le cure del pronto soccorso. Sulla caduta è intervenuto Paolo Gozzani segretario della CGL di Massa Carrara che afferma un'altra inaccettabile giornata. Gli incidenti sul lavoro non si fermano. C'è sempre più paura e preoccupazione tra i lavoratori. Tutti dobbiamo domandarci come fare di più per combattere questa piaga. Esprimiamo cordoglio e vicinanza ai familiari dei lavoratori coinvolti.